Nel video di oggi voglio fare un po' di chiarezza per quanto riguarda la differenza tra Mild, Full e Plug-in Hybrid. Queste cose io le ho imparate nei corsi ufficiali Toyota e principalmente dal mio ex responsabile vendita. Quindi non sarà una spiegazione da ingegnere, ma sarà quella giusta che dovrete sapere quando acquistate un'auto ibrida per fare la scelta più consapevole possibile. Partiamo subito dalla prima, che è la Mild Hybrid, che è quella meno hybrid di tutte. Si intende hybrid quando ci sono due motori che spingono la macchina. In questo caso il motore che troviamo nelle Mild è molto piccolo. È quasi come il motore della lavatrice, diceva il mio ex responsabile, ed è vero, ha pochi cavalli. Piccola interruzione, se volete che ci rivediamo ancora lasciate un like ed iscrivetevi al canale. Vi lascio il video. In questo caso, in questa motorizzazione, non possono girare separato. Quindi vanno sempre e comunque insieme. Il benzina resta sempre e comunque acceso. Vi faccio vedere anche da qua. Questa dovrebbe essere una macchinina, questo quadrato qua. Non giudicatemi per i disegni, però è per capire il concetto. Nel Mild Hybrid abbiamo un motore termico, un motore elettrico piccolino, da lavatrice, come vi dicevo prima, è una piccola batteria che è a parte rispetto a quella di accensione della macchina. In questo caso specifico, il motore termico da trazione alle ruote, assieme al motore elettrico, il motore termico è sempre acceso. Non si spegne mai. Funzionano solo ed esclusivamente assieme. Il motore elettrico li dà un aiuto in accelerazione. Vi dico la mia. Secondo me il Mild Hybrid è solo una questione per la classe di inquinamento. Perché tanto alla fine consuma praticamente come il benzina classico. Solo che abbiamo dei componenti in più, dei componenti che si possono magari anche rompere. Quindi hanno un costo di riparazione, hanno un costo di produzione, di inquinamento. Quindi alla fine, ripeto parere personale, però per me il Mild, vabbè, se c'è sulla macchina lo prendo. Però se non c'è è uguale, non mi cambia niente personalmente. Poi fatemi sapere qui sotto magari se avete un'idea diversa sul Mild Hybrid. Io non ne sono un fan. Passiamo invece al Full Hybrid che è molto più interessante. E in questo caso i motori possono funzionare in due modi. Sia in parallelo che in serie. E questa già è una macchina che comprerei assolutamente. Perché in città si consuma davvero poco. Le Yaris se si guida molto attenti in città facendo tante frenate. Quindi rigenerando energia elettrica e ributtandola dentro la batteria. Grazie alle nostre decelerazioni e frenate possiamo riusarla. E dove freniamo di più ovviamente nel traffico nella città. Ho visto dei clienti che facevano 27 km con un litro. Guidavano attenti? Guidavano in città? Sì, però sono risultati davvero ottimi. Per una macchina che non va mai collegata alla spina di corrente. L'energia che si riesce a mettere dentro la batteria di un Full Hybrid. La si mette soltanto fra decelerazioni, frenata regenerativa e il motore termico che ci fa. Da generatore di energia lo schermino è così. Abbiamo il motore termico, il motore elettrico che è più grande, di una potenza maggiore. Qui varia in base a marco e modello di macchina. E una batteria più grande. Possono funzionare anche separatamente. Io posso andare anche solo in elettrico. La batteria la carico sempre usando le frenate rigenerative come vi dicevo prima oppure usando il motore termico come generatore di corrente per caricarla. Però io posso andare con questo termico spento. Vi racconto anche un aneddoto divertente. Il primo giorno quando ero in concessionaria uno dei miei colleghi mi fa sai guidare il cambio automatico? Sì certo, sposta questa macchina. Vado lì, prendo... Era una macchina Full Hybrid, attenzione. Le chiavi, l'accendo, cacciando il pulsante, non si sente niente. Vabbè, non si accende, non va. Ha la batteria scarica. Io prima d'allora non avevo mai guidato un Full Hybrid, non l'avevo mai provato assolutamente. Avevo sentito l'esistenza però è diverso provarli e vedere un video online. Comunque, dopo torno da lui, gli faccio guarda, la macchina non va e dice sì 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 che va. Te metti in drive, vedi che parte. Torno alla macchina, metto in drive e sento la macchina che parte. Senza che parta il motore termico. Senti che si muove come un elettrico ed è una sensazione molto bella e strana la prima volta che la provi perché senti la macchina che si muove, sembra un monopattino senza accendere il motore benzina. Per poi capire che un Full Hybrid appunto può funzionare anche solo in elettrico. Fino a una certa velocità. Le Toyota nuove per esempio arrivano anche fino a attorno a 100 km orari senza problemi se non schiacciamo troppo sul gas. Ed il funzionamento è praticamente questo. La macchina può spegnermi il motore termico e lasciarmi circolare soltanto in elettrico con l'energia che ho recuperato frenando ed accelerando. Questo mi aiuta molto ovviamente per i consumi. Fino a una certa velocità come accennavo prima e fino a una certa richiesta di gas. Se io vado ad accelerare a tavoletta la macchina mi accende sia il motore termico sia il motore elettrico e mi dà tutto da entrambi. E per quello che specialmente nei cambi ECVT quando chiedete tutto alla macchina sentite il motore termico andare su dei giri così il motore elettrico vi dà tutto quello che ha assieme a quello termico. In uno scenario di una strada statale o extraurbana dove stiamo procedendo a una velocità costante magari di 70-80 km orari dove non ci sono tante frenate rigenerative da fare dopo un po' che andiamo in elettrico dipende quanta energia abbiamo recuperato. Comunque non dopo tantissimo, un chilometro e mezzo, due, dipende anche da macchina a macchina. Il motore termico si riaccende ed in base al carico di accelerazione che richiediamo lui ci può fare da generatore buttando energia nelle batterie e noi ci spostiamo sempre in elettrico con il motore termico al minimo risparmiando comunque. Ovviamente se siamo in più nella macchina quindi abbiamo più peso, abbiamo l'aria condizionata accesa e quant'altro funzionano assieme. Passiamo al plug-in hybrid, questo è molto interessante come motorizzazione, ha però dei problemini, nel senso dei problemini fra virgolette. Ne ha due principalmente. Il primo è il costo, ovviamente c'è un costo maggiore. E secondo, bisogna avere il posto dove caricare la casa o al lavoro, se no non ha senso perché questa fra tutte le tipologie di hybrid la potete collegare alla spina, le altre no. Le altre si ricaricano soltanto con le frenate rigenerative, decelerazioni ed usando il motore termico come generatore. Questo potete andare alla spina di casa, tac, per quello che si chiama plug-in, ovviamente derivante dall'inglese, non bisogna neanche dirlo. E funziona così, motore termico, motore elettrico, sempre di grandi dimensioni in base alla macchina che abbiamo. E la batteria ancora più grande, una batteria che come vi dicevo potete caricare collegando alla spina di corrente. Quindi potete procedere con un'autonomia di 40, 60, 80 km dipende dalla tipologia di macchina solo in elettrico. Indipendentemente da quanto chiedete all'acceleratore, poi ci sono variazioni da marchio a marchio, mi raccomando. Quando avete finito la carica che avete dato alla macchina potete procedere con il motore termico. In questo sistema qui la batteria si ricarica anche con le frenate rigenerative, decelerazione ed usando il motore termico come generatore, diventando anche un full hybrid, quindi rispetto a tutti i principi del full con l'aggiunta di poterlo caricare alla spina di casa. Il prezzo spesso più alto di questa vettura non giustifica l'acquisto se non per chi la può ricaricare a casa con un buon piano tarifario del suo gestore elettrico oppure chi ha i pannelli. Almeno in linea generale, poi ogni caso va sicuramente analizzato nei mini dettagli in base alle esigenze del cliente, le sue disponibilità e l'uso che ne deve fare. Ma questo con tutto. Questa è un'infarinatura generale per capire il concetto che sta dietro a queste tipologie di auto per sapere come e cosa acquistare in base alle vostre esigenze. Quindi l'esercizio mentale lo dovete fare voi sulle vostre esigenze, non su quelle degli altri. Questo è per capire il concetto. Se siete arrivati fino a questo punto vi chiedo di lasciare un like, iscrivervi al canale per non perdervi altri video come questo. È anche diverso, avete visto ho preso anche una moto quindi porterò anche la moto. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!